Ciao a tutti i craftoni, io sono Merlocraft, oggi siamo finalmente su un normalissimo server multiplayer con l'FTV Ultimate e siamo qui con un cretino qua, parla dai Ciao a tutti, yeah Allora vogliamo cominciare la serie che sarà quella principale sul canale, io perdono già da subito che siamo stati, cioè lui non ha proprio caricato un cacchio Guardate nella descrizione il suo canale, messaggio subliminale, guardate nella descrizione, fa schifo, non guardatelo, fa schifo, mettergli non mi piace, fa schifo Non è vero cosa dici, non guardateli voi Mettete mi piace, condividete il video, fate tutto perchè per noi è veramente importante, io tolgo la render distance perchè altrimenti mi lagga tipo 10 fps, mi farò lo stesso Ecco, niente, adesso vogliamo cominciare veramente questa serie che sarà, la stiamo promettendo tipo da secolo, abbiamo avuto un casino con lei, volevamo farla con l'FTV Unleashed ma non andava il pack Però non funzionava Lasciate stare, lasciate stare veramente Cominciamo staserie, devo vedere noi che failiamo, guarda, amore dove sei? Ti regalo un fiore, vieni qua, vieni, guarda, vieni, tieni Grazie No sto scappando, vieni qua Vieni qua Il cazzo sei finito Tieni fiore Allora, ok, e noi cominciamo adesso a raccogliere legna Che cazzo stai laggando? Si può darsi Non riesco neanche a mangiare un pollo Solo un pochino Si, solo un pochino Vabbè, ecco Il mio va perfetto Il mio va perfetto Il mio va perfetto Il mio va perfetto Vabbè, allora noi comincieremo a Ok, non l'ago più Si, forse si Vabbè Prendere polli Noi comincieremo a raccogliere legna, eccetera, eccetera E polli Oddio, che cazzo è successo Perché i polli ti stanno seguendo? Come i polli? Merlo, guardati dietro di te Oh, porca tro... Ah, perché c'ho i semi Ah, io anch'io Sono il re dei polli Sono il re dei polli Ah, no, io non li ho quei semi fighi Sono i semi normali Ah, ecco Non è che sono i semi fighi Ah, ma sono i semi che fanno... Sono i semi del vanilla Oh, non l'ago più Ma lo so Va bene, ecco Noi cominciamo a prendere legna e ci si sente Poi, in poche parole, prendi a legna Si, ecco, ci si sente Bene, raga, abbiamo un po' tagliato Siamo andati... Caverna Aspetta Merlo Stoppa, 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 stoppa Cosa stoppa? Stoppa Ma stoppo Stoppa Aspetta eh Io l'ho già fatto partire vecchio Dopo la seconda e ultima clip E adesso avete visto che è fatto vena Noi ci siamo un po' organizzati Abbiamo fatto la scorca di palle di neve per l'attacco di mordemici Un bellissimo cestino di sabbie mobili Che abbiamo preso tipo da laggiù Abbiamo fatto esplodere qualche creeper Siamo andati in miniera Miniera Ah, è esploso il creeper Proprio così E abbiamo preso l'occasione per fotterci su un po' di cose Piccoli in ferro Il bottino Coalcopter Abbiamo un po' di quarzo Semini di vario genere Esatto Cristallini da towncraft Cristallini da towncraft Cristallini questi dark city canchium qui Che magari potrei anche far diventare bloccosi qui Un cervello Aspetta che occupano Ah si c'è quello di dormia Quello non l'abbiamo mai caposa in miniera No, però l'ho preso io Questo io lo metto qua per decorazione Intanto Una brutta spada di legno Te la puoi tenere? No, la brutta in un cestino Scusa, è fatta apposta Ah, giusto Adesso vedete la funzionalità Lo immerge dentro e poi scompare Il problema è che se si cade dentro L'unico modo per uscire C'è game mode creative Quindi Esatto Oppure muori Oppure muori E tipo, magari mettiamo per decorare anche qua Magari per ricordarci che non si può entrare Facciamo i cristallini Ah, i cristallini Così ogni volta che sali per buttare gli oggetti Ti fai male Eh, non faccio solo dettagli Allora, visto che Mentre registriamo Facciamo le cose fighe Io direi che Siccome non sopporto il crafting table normale Facciamo la progettiva Ah, vedete la webcam di Traincraft qua sopra Perché lui è brutto La mia invece non funziona Perché la sto usando con Skype Quindi, vabbè Facciamo questa cosa qui Quindi Io non ti dico niente cosa sto facendo Alla stessa Wow Allora, facciamo... Che cavolo è sto blocco, scusa? Voi lo state già vedendo, ma... Cos'è sto blocco? Chi blocco? Eh, sapete che l'ho fatto con i cristallini Quelli che servono solo a diventare blocchi Ah, sì, ok, ho capito Quali neri Esatto Mi manca facciare sta project table Ah, l'ho già capito Sto facendo la stone io Ho già fatto tutto Mi manca solo la stone La faccio io Così Stone? Legna c'è Aspetta, magari un attimo Sposto la tua webcam di qua Va bene Così guido anche la minima Ah, legna l'ho? Facile, allora faccio tutto Quanto è lenta sta formace Facciamo la induction furnace Aspetta Tanto tanto si fa veloce Guarda Guarda Guardate subito Ma io sostituisco sta qui che brutta Un attimo Si fa solo con un electric furnace Un advanced machine block E otto pezzi di coppa Guarda E adesso dove lo crafto? Siamo peggio Ok, ne faccio un'altra La faccio io No, la faccio io Lo sto già facendo io Oh, eccolo qui Cosa? Project table Mi serve della stone Ah, ma l'hai già fatto Ah, buono Ah, io ho craftato roba in più Beh, allora ci mettiamo anche questa E un'altra cesto Credo da qualche... Dove cazzo è finita l'altra cesto? Però io Te la sei fottuta Si Bastardo Magari facciamo la cesto tipo delle api Dammela Magari La piari cesta? Che c'entra? Intanto la cesta dove ci mettiamo le api Ah Beh, la piari cesta c'entrava Assolutamente niente Bonde cosa facciamo? Eh, non lo so Ehm Non so che si può fare all'inizio raga Vediamo Aspetta Ah, siccome io sono uno sporcone Voglio subito cominciare con le mod Perché non aspetto di avere i materiali Ehm Mi vorrei cercare due squid Vuoi fare la towncraft? Si Dove cazzo li trovo gli squid? Me lo dici? No Va bene, vado a cercare degli squid No, dai, fa lo stesso I pollice li abbiamo, vero? Oh, pollice li ho dato uno Andiamo a cercare gli squid Tu vai a cercare gli squid Io vanno in miniera Va bene, uno va a cercare gli squid L'altro in miniera E noi ci risentiamo più tardi Bene raga, siamo tornati in caverna Abbiamo trovato questa enorme caverna Perché ha diram... Ho tirato la mia spada Dov'è? Ok, l'ho ripresa io Ah, volevi rubarla Nostra Ecco Abbiamo trovato questa caverna Che si dirama praticamente In ogni parte del mondo La useremo come batcaverna Sotterranea Superpotente Dopo aver nerdato un po' Per arrivarci Abbiamo un casino di cose E quindi Devo anche tornare a svuotarmi Ma lo faremo poi Mi sono fatto gli strumenti qui Verdi Sì Quelli con l'influenza Quelli verdi Ecco Quelli con l'influenza Quelli con l'influenza Sì, sì Ecco E... No, niente, è figo, insomma Magari facciamo un po' di caving insieme Che dici? Facciamo caving Sarebbe? Secondo te? No, lo so Caving Cosa ti ricorda? Cava Bravo Ok Capito Ragazzi Trenticraft è di una... Genialità Oh, con l'inglese non sono un gran che... Mi sono incastrata No, ma è solo ottimo in pagello Ma che cazzo stai dicendo? Ho detto dell'ultima verifica? Lasciamo perdere Ecco, voilà I voti troppo alti non ti servicono E... Quindi Ricapitolandolo Adesso vado a svuotarmi Quindi Io mi faccio qualche... Andiamo a casa Fai quello che vuoi Ah, devo farmi qualche arma di ferro Arma Caprisci? Arma Abbiamo praticamente un set completo di cristalli completamente inutili Per il resto non abbiamo praticamente niente Sì Esatto Neanche roba tipo oro Niente Abbiamo marble... Tanto marble Sì, ne ho tre Madonna Abbiamo veramente troppo allora I tuoi tre faranno la differenza Oddio Lo so Per il pavimento Neanche un brick ci facciamo con i tuoi tre Magari lasciamo nell'altra chest la carne di zombie perché così nell'altra chest è difficile Adesso mi sto facendo tutti gli attrezzi in ferro Facciamo quello che vuoi e torno giù Torniamo nelle profondità della guerra Sì già Non facciamo quella... Quella cosa Come si chiama No, la towncraft Esatto Giusto Perché noi nel primo episodio se non facciamo la towncraft Cioè se non facciamo qualcosa cosa si fa? Dai l'hai trovato l'inchiostro? Infatti come potete vedere questi sono i robbi della towncraft iniziali Allora tieni ste cazzo di sac... Trovami l'inchiostro Sì Tieni ste cazzo di sacche d'inchiostro Ti serve sabbia però Non so cosa devi fare Ah si l'ho trovata io vado io Ho trovata anche del petarolio qua Come potete vedere E dove? Qua ho preso le sacche d'inchiostro Ti devo vedere un attimo Siti merlocraft merlocraft Mi sono autotip... Bravo Mi sono autotipizzato Stai lì un attimo Sì sì Perché Steve Quanta sabbia ti serve? Qui hai trovato gli squiddy? Sì Sì Me la prendo un po' io la sabbia No l'ho già presa Si se ne ha presa Vedete come potete vedere ha trovato il petarolio Si sente un figo perché ha trovato il petarolio Eh lo so sono grande E' un po' con un po' uguale di 20 miliardi Oh cosa vuoi? Non so mica un nerd come te eh Poi siamo c'è nel petarolio eh Qui sotto al petarolio c'è una caverna se ti interessa Ficco Ma c'è sempre non lo sapevi? Sì c'è sempre e arriva giù fino al metro Sì c'è sempre Ah ma bastava dire Non lo sapevi? Di solito io non mi tuffo nel petarolio capisci come? Lo so M'è capitato una volta Allora non è che per una volta c'è sempre Sì no più di una volta Non so se sei Allora Allora Oh vieni a casa dai che devi fare questa roba d'inchiota Vai nella project table Tieni la sabbia Sto cuocendo la cosa? Come te? Allora noi ragazzi non so assolutamente niente Né della towncraft né niente Io devo fargli tutto il tutorial So solo l'industrialcraft Bravo Che difficoltà veramente Hai una piuma? Sì ci sono nella cesta Sì ne ho undici Ci sono nella cesta Dammi il vetro Largo Dammi il vetro Quanto te ne serve? Dammi il vetro Largo Quanto te ne serve? Davvelo Ok Te ne ho due Sì lo so me ne servono tre Eh adesso ti ho preso anche il tetto Madonna Mi fa tutto questo Allora apri la project table Va bene L'hai fatto? Perché c'è sabbia nella project table C'era già L'ho lasciata io Vedi cosa sto facendo? Sì? Cosa ho fatto? No! Le glass bottle Bravissimo Adesso penso che sia shaperlass quindi So come si fa So come si fa No non lo sai No ma perché non viene fuori niente? Ah ecco No! L'ho fatto io Yes Tadam Qui adesso con la carta ci ricerchiamo tutto Ma per adesso ci serve la bacchetta magica Che non abbiamo E la carta E ci serve l'oro A parte Bon torniamo in caverna e caving L'abbiamo fatto veramente tanto di tanker Perché mi spawno sempre qui? Mi sto ammazzando con i cristallini Bravissimo Allora torniamo in caverna Dove sei tu? Allora vedi? Sto in caverna Tu vai di la Tu vai di la Ok Io vado di qua Quello che trovo Il primo che trovo qualcosa fa Wow Non sono capace di fischiare Vabbè allora fa lo stesso Non trovare niente Che è meglio È finita È finita la cava La cava Sì Ah c'è un po' di carbone Su serio è finita la cava? Da questa parte sì Sai che l'avevo già esplorata e te l'ho data apposta vero? Madonna Più è pieno di zombie Salvami Salvami Madonna 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 Sto scappando a caso Non posso Mi dispiace io devo stare da questa parte Madonna Salvato Che cazzo sei Devo stare da questa parte Non puoi capire Sì ma ti stai imbucando Cosa cavolo fai qua? Eh devo prenderla pure la ti Cazzo La ti Prendi la pizza? La ten Ah La pizza ho capito Ok Adesso vado a uccidere quelli zombie uno a uno Si Anche io Ma parco io Non guardate mio padre ragazzi Ah Guarda cosa c'è roba Sopraná Sua Si dai che così lo fiche Attenzione Trova i cristallini gialli Si No Come si chiama quelli gialli in inglese? Hertz Shard Qualcosa Mmm Perché ti atti Non mi guardo sulla mini map con i creeper ma sinceramente io sulla minimappa non vedo i mostri fai M aspetta un attimo radar M radar show hostiles on magari fai anche quello sotto così vedi anche gli altri che non sono hostiles ma io ce li ho già on i show hostiles allora non li vedi perché ci sei buggata la mappa madonci sto morendo per nesta cute poi questi picconi verdi qua durano un'eternità si ah no cioè i cristallini verdi hanno uno spawn un po' un po' basso come spawn raid però dai a calchietta siamo? non lo so eh io non la vedo perché c'è la tua webcam tra le pitere ah ok allora siamo a 25 sopra dove stavo scavando ho trovato un'altra caverna con relativa acqua e con relativo zombie a rompere le scatole e siccome ho tre cuori due cuori un cuore muori uno zombie uno zombie madonna ho un cuore due cuori madonna madonna oddio è caduto ho un cuore e mezzo un cuore e mezzo vieni qua telepizzati dove sei qua? telepizzati cosa mi telepizzo? io non mi telepizzo dai nerd nerd no ah non puoi prenderlo eh non puoi prenderlo sto non setta come smirgare? come smirgare? perché non mi si scarcava da fuori? dammi cosa e tu prova a sfiorarmi e sei morto di caldo sono morto io ma poi muori anche tu perché ho la spada e il pistacchio chi è che madonna non toccare le mie cose non toccarle madonna voglio andarsene stiamo qui a casa vuoi telepistietato? ricerchiamo qualcosa della towncraft bravo ricerca non abbiamo la macchetta magica cosa vuoi ricercare? e non abbiamo neanche la carta già peccato oh senti se vuoi proprio ricercare qualcosa lo facciamo nei prossimi episodi perché adesso devo chiudere io fratello mio aspetta un attimo devo solo fare una cosa prima no 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 dai merlo non far niente di stupido ehi si no no o lo fari eeeh che bello non dovevi farlo merlo che bello io mi frego il secchio di lava ma stupido è mio quello hai cominciato a tu mi dispiace allora si ma io non ti ho fregato la roba va bene non è di gusto questo poi lo lascio in una chest se chiedi dava ok io sto sfruttando tutto in una chest perché dobbiamo chiudere l'episodio ragazzi mi dispiace comunque lo continueremo perché questa come ho già detto sarà la serie principale sul canale quindi sarà quella che continueremo di più e vale varie hai finito lo spazio in una chest nella scuola sopra è pieno si lo so che quella sopra è vuoto è pieno com'è pieno è pieno di spazio ah poi dovremmo farci anche lo smistamento mega super potente qui aspetta voglio solo vedere no aspetta cazzo si che non mi va aspetta ma i cable il cavo è quello dello sfruttamento cesto si fanno mamma mia cosa cavolo stai facendo sto guardando come si fa lo smistamento e mi sa che ci servirà un pittone così un? notte io vi like vi mando ai prossimi video che caricherò e anche ai suoi perché anche se in fondo è un bravo ragazzo e mi raccomando mi piace mi raccomando lasciateci un mi piace perché adesso e anche condividete c'è tutte quelle cose lì perché adesso che siamo agli inizi è veramente importante per noi noi vi ringraziamo per la visione vi rimandiamo ai prossimi video che caricheremo e ciao ragazzi vai salta un po' ciao a tutti ciao a tutti